Quindi, non lo so, il governo è dimenticato noi, noi non sappiamo. Hai paura del coronavirus? Abbiamo paura di questa malattia, ma non posso fare niente. Ci sono tante persone per vivere qua, però il coronavirus loro ha detto un metro così, così. Non ce la fate perché dormire in 15 settimane è impossibile. È impossibile, non abbiamo esperto per dormire. Non abbiamo niente. Anche quando qualcuno non sta male, è un problema per questo ancora. Essendo una vita promiscua, potenzialmente potrebbero essere contagiosi tutti. A seguito dell'emergenza coronavirus, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri stabilisce che per evitare il contagio bisogna rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. Nella piana di Gioia Tauro, in Calabria, i migranti però sono ammazzati in tende di fortuna fatte di lamiera e plastica. Quindi, non lo so, il governo è dimenticato noi, noi non sappiamo. Però ci sono tanti migranti che vivono qui, non abbiamo niente da mangiare, non abbiamo energia, non abbiamo acqua. Con un'emergenza sanitaria nazionale, vivere in un luogo che è fatiscente di suo, in baracche, senza avere l'accesso all'acqua potabile, all'elettricità, quindi anche a un riscaldamento, non ci sono i bagni, non ci sono le docce. Quindi la situazione dal punto di vista sanitario è drammatica in questi luoghi. Non riescono nemmeno ad andare a fare la spesa tante volte perché senza mascherina non li fanno entrare. La stragrande maggioranza dei migranti presenti nei ghetti, negli insediamenti, è consapevole dell'emergenza che noi stiamo affrontando. Ma purtroppo c'è anche una parte che considera questa malattia una malattia che riguarda soltanto i bianchi. Qui la stagione della raccolta è finita. Lo scorso anno i migranti in questo periodo erano già partiti verso la Puglia, la Campania e il nord Italia. Adesso però i lavoratori sono bloccati. Secondo Confagricoltura servono almeno 200.000 persone subito, mentre per la Coldiretti il 40% dei raccolti resterà a marcire nei campi. C'è questa malattia, il coronavirus non posso lavorare, non posso uscire, quindi due mesi che non lavorare. Se io ce l'ho contratto, lavoro sette ore, mi paga 36 o 35, dipende. Con i mandernini, anche l'arancia. Quando non c'è il coronavirus, noi dobbiamo andare anche a lavorare a Napoli, a Foggia, per lavorare lì. Non viene garantita la mobilità a questi lavoratori, nonostante gli appelli da parte di agricoltori di altre zone del paese, e quindi loro si trovano in una situazione di precarietà. Tra le tante richieste, ovviamente, quello che ci chiedono è di poter andare a lavorare, perché effettivamente insieme alle condizioni difficili di una vita precaria si uniscono quelle di non avere purtroppo la possibilità di comprare anche da mangiare. Tant'è che molti di loro chiedono di avere diritto al bonus dei 600 euro per i lavoratori agricoli. Sappiamo benissimo che molti di loro non avranno diritto a questo bonus perché di fatto non riusciranno a garantire quello che è il requisito delle 50 giornate lavorative. E' chiaro che il problema è caporalato, sfruttamento, quindi lavoro in nero, ma al grado loro ci dicono sì, io ho lavorato tutto l'anno, però di fatto non mi ritrovo le giornate effettivamente lavorate. Noi abbiamo bisogno di aiuto per rinnovare i documenti, abbiamo bisogno di documenti per lavorare, quando non c'è i documenti non posso lavorare. E' necessario regolarizzare tutti coloro che anche a causa dei decreti salvini sono diventati clandestini, infatti sono senza reddito e di conseguenza cresce la paura e la tensione all'interno dei varighetti. In questo momento poi dove c'è una carenza di manodopera abbracciantile, ancora di più c'è la necessità di applicare i contratti, di applicare le regole e rispettare quelli che sono i diritti per tutti i lavoratori. E' una regolarizzazione che riguarda tutti, quindi non solo i lavoratori che sono impiegati in agricoltura. Mohamed viene dal Mali, da otto anni vive in Calabria. Prima lavorava come mediatore in uno SPRAR, ma con il decreto Salvini il progetto è stato interrotto e lui è finito nella baraccopoli di Taurianova. Abbiamo andato a Taurianova per cercare la casa, per abitare, sono andato nel comune tante volte perché loro vogliono fare una cosa per noi e noi sono andati lì per spiegare la nostra situazione, ma non ho trovato nessuno per aiutare noi. Noi abbiamo ricominciato a fare le visite mediche da questa settimana, ho distribuito termometri e igienizzante per dare anche loro degli strumenti di monitoraggio rispetto ai sintomi. Dopodiché abbiamo attivato un servizio di tirage telefonico. Cerchiamo di monitorare perlomeno le condizioni di salute in generale. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.